Siamo qua con l'assessore Nocita, si è appena conclusa la giornata dedicata alla Transalp, i ciclisti sono appena arrivati. Un ottimo evento, siamo alla terza edizione, un po' d'acqua non guasta, così rende un pochino più dura la gara, per fortuna però l'arrivo è asciutto, quindi diciamo tutti coloro che hanno avuto piacere di venire a vedere l'arrivo non hanno avuto problematiche, una bellissima esperienza, sicuramente oltre all'aspetto sportivo c'è da sottolineare quello turistico che unisce due territori che sono vicini, seppur attribuiti a due regioni diverse, però in realtà diciamo che la geografia in questo caso non c'entra niente perché sicuramente il mare e le Alpi così vicine a noi hanno tanto da dire insieme e questa gara non fa altro che sottolineare questi aspetti.